Originale concerto organizzato da Biela Jets Club al Lago del Mucrone, questa volta saluto protagonista e il vibrofono. E un po' più in alto di Europa, ovvero al Lago del Mucrone, c'è stato un pomeriggio di jazz, un viaggio nella terra di mezzo. Era il tutto organizzato dal Biela Jets Club. Una vera e propria kermess musicale, organizzata dalle funglie di Europa e dal Biela Jets Club ai 2000 metri del Mucrone. I partecipanti alla manifestazione, all'arrivo al Rifugio Savone, hanno incontrato la musica con quinto Rua. Balli, canti e festeggiamenti hanno accompagnato un soleggiato pomeriggio d'agosto. Protagonista assoluto della musica sul lago, il duo Merlino Riboli, con il vibrafono Teremin. Il Teremin è uno strumento musicale inventato nel 1919 dal fisico russo Termen, ma poi ripreso e reso famoso da Robert Moog, il celebre Moog dei sintetizzatori. Il suono prodotto è una sinusoide e viene controllato in altezza e intensità con il movimento nelle mani e nell'aria. Il suono è riconoscibile e particolarissimo. E brava Giulia Riboli e il suo Teremin. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti